Ciao a tutti e bentornati sul canale YouTube di Easyarp. Vi ho già parlato in precedenti video di come funziona la piattaforma di Easyarp 2.0, la tua scuola di armonica blues, online sul sito www.easyarp.it. Oggi vi do alcune rapide informazioni sull'utilizzo della community. Allora, innanzitutto per accedere alla community bisogna essere iscritti al sito. Vi ricordo che esiste la possibilità di iscriversi anche in modo totalmente gratuito, con un account free. Una volta che siete iscritti, entrate nel sito, fate il login attraverso l'area riservata, accedi e sempre nei menu a discesa entrate nella community. Cos'è la community? È uno spazio dedicato a voi studenti. Voi state facendo un percorso di studi, siete magari al corso base 1 piuttosto che a livello avanzato 4 e quindi troverete all'interno della community tutta già una serie di argomenti di discussione, organizzati o per livelli o per argomenti. Quindi nel momento in cui voi avete delle necessità di confronto legate a problematiche tecniche, solo studiando il bending piuttosto che note singole, il tone blocking e quant'altro, e avete delle difficoltà, esponetele all'interno della community, trovate l'area di discussione più attinente e esponete i vostri argomenti, le vostre problematiche e molto probabilmente scoprirete che non siete i soli ad avere questo problema. Qual è lo scopo della community? Cercare di creare confronto tra di voi che siete iscritti, annullare un po' le distanze create dall'utilizzo di un corso online, insomma siamo comunque sempre persone fisiche con un nome, un cognome, che magari hanno piacere di conoscersi e di confrontarsi. Bene, quindi avete la possibilità di comunicare tra di voi, condividere delle problematiche, ma non solo delle problematiche, chiaramente. Avete ottenuto il vostro certificato di superamento del livello, condividete la vostra registrazione, questo potrà tornare utile come esempio a qualcuno che magari si sta preparando per ottenere lo stesso risultato. Ci sono aree di discussione, cioè anche un mercatino dell'usato, insomma potete condividere le vostre personali registrazioni. Insomma, un'area all'interno di una scuola dedicata totalmente a voi studenti per il confronto e la crescita magari proprio attraverso il confronto su argomenti comuni. Vi invito quindi a utilizzare con frequenza la community. Entrate spesso, una volta che siete registrati, entrate spesso per avere visibilità degli ultimi argomenti creati. ognuno di voi può creare un proprio argomento all'interno della specifica area. Vi suggerisco, qui avete insomma forum utenti post recenti. Ecco, come dice Enrico, il webmaster, insomma chi ha creato la struttura informatica del sito, utilizzate spesso il tasto, lui lo chiama il sacro tasto post recenti. Quindi cliccando su post recenti avrete la possibilità di vedere proprio gli ultimi argomenti creati. Qualcuno magari ha risposto a un vostro quesito. Insomma questi sono gli ultimi argomenti inseriti. Quindi magari avete un problema sul secondo foro aspirato, l'avete posto, qualcuno vi ha risposto. Cliccando su post recenti molto probabilmente lo troverete insomma tra le ultime risposte. Insomma avrete la visibilità immediata di quello che è successo insomma nelle ultime ore o giornate. Bene, dopodiché aggiungo ancora questo. Non scrivete direttamente a me. Non scrivete direttamente a me. Lo scopo non è insomma di creare un confronto continuo e diretto tra Paolo De Montis e tutti gli iscritti. Anche perché non avrei la possibilità di farlo. Lo scopo è quello di creare un confronto tra di voi. Quindi avete un problema sulle note singole? Scrivete ho un problema sulle note singole. Cosa ne pensate? Magari avendo nella possibilità allegata un vostro file audio, vi siete magari registrati attraverso il telefono, fate l'upload magari direttamente anche dal telefono del vostro file audio e chiedete un consiglio. Chi è più avanti nel percorso di studio molto probabilmente sarà contento insomma di darvi dei suggerimenti che saranno utili insomma per risolvere magari le problematiche. Dopodiché io chiaramente sono sempre il moderatore quindi potrò intervenire in qualsiasi momento. Ma non scrivete a me. Questo è uno spazio vostro, totalmente vostro, dedicato che se ben utilizzato insomma vi darà la possibilità di crescere ancora di più. Quindi da una parte avete l'area dedicata ai corsi, dall'altra parte c'è la community. Non sentitevi soli, siamo in tantissimi sparsi ma questo insomma è uno spazio comune dove il confronto è sempre utile e costruttivo. Poi chi lo sa magari un giorno organizzeremo un evento in presenza dove chi potrà vorrà insomma parteciperà dal vivo a questa grande riunione degli iscritti ai vari corsi insomma tra tutti gli studenti di Easy Arp e io ne sarò sicuramente molto felice. E ricordate che imparare su una armonica è facile con Easy Arp. Take it easy, take it easy Arp. Ciao un saluto a tutti!